Musica Benvenuti a Informazione sui prodotti, io sono Jackie Carter, formatrice internazionale per prodotti di nutrizione esterna e erba. Oggi vi parleremo della linea Skin Activator, 5 prodotti unici per risolvere i problemi dell'invecchiamento della pelle. E' perfetto sia per uomini che per donne. Ma prima di parlare dei prodotti Skin Activator parliamo invece di come nutrire la pelle. Sappiamo che le vitamine antossidanti e gli effetti nutritivi sono importanti per tutto il corpo, compresa la pelle, e combattono il danno dei radicali liberi. E' importante prendere le misure necessarie per combattere i segni dell'invecchiamento e correggere quelli che sono già presenti. Il che ci porta ai prodotti della linea Skin Activator, 5 prodotti in ritardo a tempo con un complesso a base di glucosamina unico per ridurre i segni dell'invecchiamento dove più serve. Uno studio clinico indipendente sugli effetti del complesso a base di glucosamina della nostra linea ha dimostrato risultati fantastici, tra cui miglioramento dell'afferenza delle rughe, il livello di idratazione della pelle, la compattezza, l'idratazione e altro. Quindi la vostra età è il vostro segreto. La lozione Giorno Skin Activator con filtro 15 è una lozione leggera che serve a combattere i segni dell'invecchiamento e può minimizzare le rughe sottili e migliorare la compattezza della pelle. Contiene un gran numero di filtri UVA e UVB, protezione 15 per bloccare i raggi del sole dannosi. La crema da notte rigenerante Skin Activator è una crema ricca, idratante, che riduce l'apparenza delle rughe e misura il livello di idratazione della pelle mentre dormite. Se la usate potrete svegliarvi con una pelle più compatta e luminosa. E uno dei primi posti dove si notano le rughe sono attorno agli occhi. La crema contorno occhi Skin Activator serve a rendere più compatta la penne attorno agli occhi e a tenerla idratata grazie al grande livello di idratazione. Ottima per uso sia giorno che la notte. Il tempo poi ha un notevole impatto sulle labbra. e che diventano più secche e più sottili. La crema per le labbra Skin Activator serve a idratare le labbra e a renderle più voluminose. Contiene anche filtri UVA e UVB. Tutti questi fantastici vantaggi servono a mantenere le vostre labbra morbide e solici. E poi abbiamo anche la pelle del collo che è un problema. La crema Decolletage Skin Activator è una crema molto ricca, idratante, che serve a rendere più morbida la pelle del collo e del decolleté per renderla più giovane. Ricordate, man mano che la pelle invecchia, è necessario dedicarle più cure per mantenerla giovane e elastica. Comprate subito oggi la linea Skin Activator di Herbalife per proteggere la vostra pelle e renderla più giovane. Potete provare tutti questi fantastici prodotti della nutrizione esterna ordilandoli oggi da un distributore indipendente Herbalife. Grazie dell'ascolto.